ebbene a tutti ragazzi oggi siamo qui con un nuovissimo video finalmente fa un caldo porco non è questo il finalmente ma finalmente abbiamo fatto i draghi a livello 4 quindi oggi vi andrò a far vedere prima di tutto un attacco fail che ho fatto prima per provare un posto i draghi a 4 avevo trovato un bel villaggio da sfondare no però giustamente la sfiga che ho io un po di bottino l'ho presa però i troffi sono persi continuiamo con l'attacco ho messo tutti i draghi di qua per fare il bordello l'ho messa anche bene nelle possine solo che non è stato per il clan l'hanno mal devastati subito ai draghi perché sono delle bestie assurde e ho messo la furia e la cura però i draghi hanno fatto gli hba e se ne sono fide la cara parte ma questo mi pare anche tutto se questo cazzo di drago prendeva il mortaio o questo qua non moriva subito e prendeva anche quella cosa degli incantesi senza incontrare quella bomba qua stavo sclerando perché c'era questa acere noi potevamo fare il 50 per cento ma oggi siamo qui per testarli insieme a voi vi ringrazio da subito per i 22 mi piace 21 mi piace nell'ultimo video quello della sfida vendato che penso vi sia piaciuto e vi ringrazio per i 30 mi piace per il primo video con la felisca quindi noi passiamo subito a cercare un avversario e questo villa mi piace a quanto perché c'è un botto d'oro quindi attacchiamo questo villaggio perché c'è un botto d'oro per l'appunto e io deciderei di attaccarlo dalla parte questa sotto perché prendiamo subito il municipio e i volani ce li inculiamo a bestia quindi tentiamo anche di non prendere il municipio quindi mettiamoli da questa parte così mettiamo la regina che va sul municipio e teniamo subito le furie una qua così si mi piazza una bestia e una cura tra poco perché tornando indietro la mettiamo qua davanti non sta andando molto bene questo attacco perché stanno schiettando tutti i draghi ma la cura dove la mettiamo adesso? la mettiamo qua magari si muovono questi draghi e il cazzo ok perfettico mettiamo una bella furia qua così magari vanno lì ok l'oro ce lo siamo presi quindi molto bene le due stelle le facciamo quel deposito d'oro si sta per andare a far venetire potevo fare anche tre stelle se me la giocavo meglio in preparazione non aspettavo troppo quindi nei commenti non insultatemi perché è da un casino assurdo che mi attacco con i draghi perché ho usato i draghi al 3 all'epoca quando si attaccava ancora con i draghi al 3 in war ma quando c'è il mungico al 9 con i draghi al 3 non andavo in nessuna parte per le war quindi qua il nostro bottino ce lo siamo fatti altamente qui intanto l'ultimo drago sta lottando contro l'arco x e il volano ma penso che vincano l'arco x e il volano e la torre dello stregone perché sono stroppi non lasciano attaccare il nostro povero draghetto con gli occhi impiammati che è una gravissima draghetto il volano rompe veramente il cazzo non dire la verità rompe davvero il cazzo noi gli diamo la soddisfazione di ucciderlo noi torniamo a casa con 2400 di nero e 200.000 d'oro e noi ci lasciamo qui con un prossimo video domani sempre verso il 18 e niente arriviamo a 20 mi piace perché ci stiamo arrivando sempre non portiamo sfida lasciate 20 mi piace iscrivetevi se ancora non avete fatto se non l'avete ancora fatto e lasciate un commento con qualsiasi sfida con qualsiasi cosa che vorreste vedere nel mio canale e noi ci riempiamo ad un prossimo video ragazzi grazie a tutti